Sì. Aumentiamo ancora più la presentazione così ci sapete di guardare. Un paio di minuti. Grazie. 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 Siamo alla virata di metà gara, in prima posizione della consiglia 5, dove sta notando Carlo Taccini, 106.62, 1 minute 06.62 per la swimmer in linea numero 5. Sempre Carlo Taccini in testa. Ultime abbracciate. Ed è proprio lei che va a chiudere con un ufficioso di 2.24.18. 2.24.18 per la swimmer in linea numero 5. Ragionante Santorino, Carlo Taccini. Sì, pronto? Aspettami solo un attimo Angelo, solo un attimo. Divi pure. Angelo? Divi pure. Sì. Molto bene. Molto bene. Sento il comandante e poi divuto. Ok, grazie Angelo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.